Buongiorno da Obiettivo News, oggi 5 dicembre San Saba Archimandrita. Il 5 dicembre di ogni anno si celebra la giornata internazionale delle volontarie per lo sviluppo economico e sociale. Con tale risoluzione i governi degli stati membri sono stati invitati a prendere misure per elevare la consapevolezza dell'importante contributo del servizio di volontariato in modo da stimolare le persone di ogni condizione a offrire i propri servizi come volontari sia nel proprio paese sia all'estero.